Una vita anticipazioni David e Valeria fanno l'amore Come già anticipato nel video pubblicato ieri, tra Valeria e David nascerà un'attrazione reciproca. La giovane non riuscirà più a resistere questo desiderio e finirà per fare l'amore con il suo protettore. Tutto avrà inizio, nelle prossime puntate, dopo il confronto fisico che David avrà con Aurelio. Una volta sole in casa, Valeria prenderà cura delle ferite di David. In quel frangente la coppia si farà trascinare dalla passione e, dopo essersi baciati per la prima volta, trascorrono la notte insieme. Un vero e proprio colpo di scena che genererà diverse dinamiche, nelle loro vite e soprattutto nel matrimonio dei terribili coniuge Chesada. La passione prenderà quindi il sopravvento, con la pianista che tradirà il marito Rodrigo. Tuttavia, il giorno dopo, la donna si sveglia confusa e proverà vergogna per aver ceduto alla passione. Valeria sarà imbarazzata ed emozionata allo stesso tempo. Dopo la notte di passione che ha trascorso con David, chiede al suo amante di andarsene e di lasciarla in pace. Mi hai tradito anche te in questi mesi, eri consapevole del piano di quel bastardo, dice la donna. Cosa succederà da qui in poi? Quale conseguenze avrà questa relazione nella vita di entrambe? Le anticipazioni terminano qui, per non perdere altri video iscriviti al canale.